26 dicembre 1946 Nasce a Roma, nello studio di Arturo Michelini, il MSI, Movimento Sociale Italiano. Lo scopo è quello di raccogliere le forze fasciste disperse dopo la fine della guerra e, in parte, provvisoriamente, confluite nel Partito dell'Uomo Qualunque, creato da Guglielmo Giannini. Fra i fondatori del Movimento alcuni reduci della Repubblica Sociale Italiana Pino Romualdi, Giorgio Almirante, Cesco Giulio Baghino e Mario Cassiano. Come simbolo del Partito, Giorgio Almirante propone l'adozione della fiamma tricolore. Grazie a tutti.